Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. I carabinieri di Opido Mamertina in provincia di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare e interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di insegnamento a carico di due insegnanti di una scuola elementare del luogo. Le accuse sono di maltrattamento violento e reterato nei confronti dei loro alunni. Schiaffi e minacce a bambini della quinta classe di una scuola elementare di Opido Mamertina nel Reggino e questa è l'accusa rivolta a due insegnanti, entrambe di 49 anni, alle quali i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di sospensione dell'attività emessa dal GIP del Tribunale di Palmi. Le indagini avviate nel novembre 2016 dopo la denuncia di alcuni genitori si sono avvalse delle riprese video delle telecamere installate nella scuola dagli investigatori. I genitori si erano rivolti ai carabinieri dopo aver notato sui propri figli diverse lesioni sul corpo e, in modo particolare, al volto. I militari dell'arma della stazione di Opido Mamertina, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Palmi, retta da Ottavio Sferlazza, per accertare la veridicità della segnalazione, hanno quindi deciso di installare delle telecamere di videosorveglianza all'interno dell'istituto scolastico per monitorare eventuali maltrattamenti perpetrati ai danni degli alunni da parte delle docenti. Dai filmati è successivamente emerso che, in diverse occasioni, le due insegnanti indagate, ignare di essere monitorate, nel corso delle lezioni avrebbero maltrattato in modo violento i propri alunni, rivolgendone ai loro confronti gravi minacce e ripetute ingiurie. In alcuni episodi si nota come le due maestre, infastidite dal comportamento degli alunni, si rivolgono a loro urlando e costringendoli ad assumere posizioni composte prima di colpirli con schiaffi al volto. In un altro episodio gli alunni vengono spinti all'esterno dell'aula per essere subito costretti a rientrare in fila indiana sotto la minaccia di ulteriori maltrattamenti. La stazione carabiniera di Opido Mamertina, che ha svolto l'attività d'indagine, ha ricevuto delle segnalazioni da parte dei genitori di alcuni alunni di una quinta elementare di una scuola statale del luogo, i quali hanno notato dei segni sul volto dei propri figli e a quel punto hanno segnalato questa vicenda. Da lì sono partite attività tecniche di indagine che hanno permesso di acquisire un elemento fondamentale, ovvero una serie di filmati che sono stati valutati dall'autorità giudiziaria, la quale poi ha messo la misura cautelare odierna. Ovviamente si parte sempre da attività tradizionali, come servizi di osservazione, controllo e pedinamento, per poi sviluppare, qualora ne ricorrano i presupposti, attività tecnica. In particolare sono stati eseguiti dei filmati all'interno delle alue didattiche che hanno permesso di evidenziare alcuni maltrattamenti perpetrati dai danni dei minori. Per quanto riguarda i maltrattamenti, l'attività d'indagine è stata definita, si svolgerà poi tutta la sede processuale opportuna. All'Ocri il prossimo 19 marzo arriva il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Esattamente un mese fa la visita all'Università della Calabria, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. A breve però il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà in Calabria. Il prossimo 19 marzo incontrerà all'Ocri i familiari delle vittime innocenti e le mafie. L'occasione è la 22esima giornata alla memoria dell'impegno che si svolgerà il 21 marzo in tutta Italia e ovviamente anche all'Ocri. Ad annunciare la presenza del Capo dello Stato sono stati Don Luigi Ciotti, Presidente Libera e il Vescovo di L'Ocri Gerace, Monsignor Francesco Liva. È la terza visita in assoluto in Calabria di Mattarella, dopo quelle appunto dell'Unical e nel 2016 di Catanzaro. Decisamente diverso stavolta il significato della sua presenza. Il Presidente Sergio Mattarella, fanno sapere, ci ha confermato la sua presenza all'Ocri il 19 marzo, dove incontrerà le centinaia di familiari delle vittime innocenti e le mafie che arriveranno da ogni parte d'Italia nella tappa verso la 22esima giornata alla memoria dell'impegno in ricordo delle vittime e le mafie che si svolgerà il 21 marzo all'Ocri e in oltre 4.000 luoghi d'Italia. Gli infermieri di Cosenza incontrano il Direttore dell'Azienda Ospedaliera. A Cosenza si è svolto un incontro tra il Direttore dell'Azienda Ospedaliera, Achille Gentile, e il Presidente Provinciale dell'IPASVI, Fausto Sposato, ed è servito per focalizzare l'attenzione sull'attuale fase sanitaria nella provincia di Cosenza. I concorsi per infermieri, il personale di supporto, il ruolo dei coordinatori e dei capisala, il percorso formativo, il tutoraggio e gli studenti, e il pronto soccorso del nosocomio cittadino. Questi i punti tracciati e le argomentazioni discusse. Il dottor Gentile ha ascoltato e accolto le nostre preoccupazioni ed i nostri intenti. Gli infermieri sono fondamentali per una buona sanità affinché tutto possa funzionare a dovere, è quanto affermato Sposato in una nota a margine dall'incontro. Il dirigente ci ha assicurato che su tutte le tematiche messe sul tavolo sarà premura dell'Azienda Ospedaliera cercare di trovare delle soluzioni. L'incontro tra Gentile e Sposato, tra l'altro, è stato anche occasione di confronto sul pronto soccorso cittadino e sulla reale possibilità di cambiare con urgenza l'iter in essere. Inoltre è stato discusso anche dai coordinatori facenti funzione che vanno legittimati sulle unità operative dotate di un organico ottimale sull'importante richiesta alla Regione Calabria di una deroga per il concorso da dirigente Citros. A spasso per la Calabria per scoprire i tesori nascosti e le meraviglie ancora troppo poco conosciute grazie al Touring Club italiano. Questa volta si sono recati a Zungri in visita per la città di Pietra. La Calabria è una bellissima perla racchiusa in un antestetico guscio di ostrica fatto soprattutto di ignoranza e di pressapochismo. Alcuni luoghi sono delle vere e proprie meraviglie, poco conosciute e valorizzate malgrado gli sforzi di alcuni amministratori locali. A dare loro una mano il Touring Club italiano che negli anni si è trasformato in un soggetto trainante nell'organizzazione e nello sviluppo del turismo nella valorizzazione e nella protezione dell'ambiente i cui associati girano per le regioni italiane per scovare delle vere e proprie bellezze paesaggistiche proprio come è successo a Zungri dove una comitiva ha visitato il paese di Pietra un sito rupestre datato dagli studiosi tra il XII e il XIV secolo è costituito da circa 100 case grotta scavate nella roccia con ambienti monocellulari, bicellulari alcuni anche a più piani. Attraverso la rete locale ma soprattutto quella nazionale noi promuoviamo per esempio come oggi qui a Zungri questo insediamento rupestre antichissimo, splendido veramente io non c'ero mai venuto, abbiamo fatto una scoperta oggi che ci sembra di essere fuori dal mondo. Noi vogliamo incentivare qui un turismo culturale, un turismo lento come in inglese dice slow tourism cioè dire apprezzare quelle che sono le particolarità del locale le particolarità che ci stanno nella porta a fianco ecco questo è il compito del touring soprattutto in questo periodo dove la Calabria difetta anche di un turismo particolare ecco direi particolare nel senso che bisogna attirare più ospiti più operatori turistici non solo italiani ma soprattutto anche internazionali perché la Calabria, la provincia di Vibo Valencia più in generale quindi può ospitare veramente un turismo durante tutto l'anno che possa dislocarsi diciamo così nelle varie realtà partendo da Zungri, a Tropea, a Serra San Bruno, a Mongiana, a San Nicola da Cris ci sono degli splendidi insediamenti culturali che non riguardano solo insediamenti rupestri o rurali ma riguardano anche e soprattutto momenti di religiosità, di antropologia una cultura anche esoterica vorrei dire che va riscoperta perché la Calabria ha dato anche in questi termini alla cultura nazionale e certamente non dobbiamo dimenticare che quella che era la piccola Grecia la Parva Grecia è diventata la Magna Grecia qui da noi e poi la cultura si espansa per tutto il mondo Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Zungri Oggi iniziamo un nuovo percorso, una nuova stagione per il 2017 intendiamo proporre il nostro territorio ma le nostre risorse storico-archeologiche il nostro sito, al grande pubblico, ai turisti e quindi noi ci rivolgiamo anche a voi, a mezzi di comunicazione è importante questo perché possiate dire quello che c'è qui a Zungri che merita di essere visto, di essere valorizzato noi lavoreremo per questo, insieme a voi ovviamente A lezione di legalità con gli uomini delle fiamme gialle ascoltiamo il servizio Anche nella provincia di Cosenza, presso l'Istituto Comprensivo di Pignano Carolei si è tenuto un incontro delle fiamme gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell'ambito della quinta edizione del progetto L'iniziativa trae origine da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca finalizzata a promuovere nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e costituzione un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria L'intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche delle falsificazioni, della contraffazione nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato anche sviluppato il progetto denominato educazione alla legalità economica che anche per l'anno scolastico in corso prevede l'organizzazione a livello nazionale di incontri presso le scuole orientati a creare e diffondere il concetto di sicurezza economica e finanziaria, affermare il messaggio della convenienza e della legalità economico-finanziaria, stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal corpo quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche all'iniziativa è abbinato un concorso denominato Insieme per la legalità che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani tramite il coinvolgimento delle scuole sul valore civile ed educativo della legalità economica nonché in merito alle attività svolte dal corpo in determinati settori favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica Si chiama Giovani e futuro comune un progetto sull'auto imprenditorialità presentato nella città Bruzia Giovani e futuro comune è il progetto regionale presentato presso la casa del fumetto a Cosenza giunta alla sua seconda edizione ideata da Goodwill la città delle idee per stimolare l'auto imprenditorialità e il protagonismo dei più giovani protagonisti sono gli studenti tra i 17 e 21 anni degli istituti superiori calabresi è un progetto Giovani e futuro comune che nasce per dare una possibilità alle nuove generazioni di formarsi e di essere classe dirigente di prendere mano gli strumenti e le competenze per cambiare questo contesto e migliorarlo partendo da quelle che sono le risorse principali che noi abbiamo un immenso patrimonio culturale ambientale e paesaggistico è un progetto di comunità è un progetto corale perché all'interno di questo progetto sono coinvolti tutti gli attori che noi ritroviamo all'interno di un contesto comunitario ci sono le scuole ci sono le amministrazioni locali ci sono gli imprenditori ci sono le associazioni Giovani e futuro comune prova a fare sistema prova a mettere insieme tutti questi attori ognuno nel proprio contesto nel proprio territorio quindi con le proprie inclinazioni con le proprie peculiarità per generare insieme valore il valore della restituzione di questo patrimonio culturale e sociale e anche ambientale con un'aggiunta in più cioè il valore economico rendere questo patrimonio sostenibile quindi capace di generare economia, ricchezza e quindi lavoro a sostenere il progetto la Talent Garden Cosenza la fondazione Vodafone Italia e fondazione Conil Sud inoltre a dare il suo prezioso contributo a questa iniziativa il Giffoni Innovation Hub la creative agency ispirata e promossa da Giffoni Experience che si occupa di ideare e sviluppare soluzioni innovative strategie e format legati al mondo dell'arte della cultura e del digitale la fondazione è entusiasta di questo progetto proprio perché lavora su due campi diciamo in due contesti che per noi sono veramente molto importanti da un lato il lavoro sui giovani perché noi riteniamo che la cura dei giovani la loro educazione la possibilità di farli crescere in contesti sani e di farli inserire nella società civile costituisca il presupposto più importante per l'auspicato sviluppo del mezzogiorno noi pensiamo che non le industrie o gli interventi calati dall'alto siano necessari per garantire questo sviluppo ma appunto questo lavoro sul capitale umano del mezzogiorno l'altro campo di interesse della fondazione in questo progetto è proprio quello dei beni comuni perché anch'essi rappresentano un patrimonio materiale e immateriale di inestimabile valore si chiama Informazione e Comunicazione Commerciale in Calabria 2 il nuovo libro del giornalista Mario Logullo 40 anni di esperienza nel mondo della comunicazione calabrese non potevano essere raccontati solo in un libro e così Mario Logullo raddoppia dopo il primo volume è arrivato infatti Informazione e Comunicazione Commerciale in Calabria 2 nuove pagine e nuovi racconti quindi dedicati ad un mondo tanto affascinante quanto difficile l'idea della seconda parte nasce per ricordare le persone non mi insegnate nella prima alcune delle quali scomparse ma non solo l'altra parte poi l'ho dedicata ai premi che ho ricevuto i quattro premi adesso ce n'è uno imminente lo do in esclusiva il 26 marzo praticamente vado a ritornare il premio a Larigo per il marketing e la comunicazione a Marano Marchesa questa è un'esclusiva e quindi poi l'ultima parte invece parla delle varie presentazioni che io ho fatto in Calabria e quindi vado a raccontare non solo gli aspetti come dire organizzativi l'ansia la ricerca delle persone vado a raccontare tutte le storie intorno al paese dove sono stato alla città perché ci sono chiaramente dei legami quasi con tutte le realtà la presentazione del libro è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del mondo della comunicazione in Calabria in attesa che probabilmente si tratti l'argomento in altra sede era prevista una parte proprio dedicata all'informazione in Calabria quindi alla comunicazione in generale proprio per vedere lo stato attuale però l'abbiamo rimandata in un altro libro perché ci voleva avrebbe richiesto molto tempo e quindi l'abbiamo però per rispondere alla tua domanda purtroppo devo dire ancora una volta in questa intervista che il mondo della comunicazione quindi non parlo del giornale stiamo malissimo stiamo malissimo perché la crisi ci va avanti non ci sono sbocchi non vedo futuro quindi consiglio ancora una volta a tutti quelli che hanno in mente di fare i giornalisti soprattutto e di lavorare in questo mondo della comunicazione se lo vogliono fare lo possono fare solo per passione e ora passiamo allo sport precisamente alla volley a Vibo stasera gara decisiva per la Tonno Callipo impegnata in gara 2 dei quarti di finale dei playoff gara 1 è ormai alle spalle ed è opportuno metterla da parte anche perché il punteggio parla chiaro la superiorità di Civitanova è stata netta ma dubbi non ce n'erano cosciente della forza dell'avversario quindi la Tonno Callipo Vibo Valencia si appresta ad affrontare questa sera in casa a gara 2 contro la squadra marchigiana prima in regular season sarà una gara da dentro o fuori e servirà una vera e propria impresa per provare a portare la serie a gara 3 in programma eventualmente domenica prossima noi possiamo fare meglio molte cose però c'è da sottolineare anche il loro grande livello di gioco che è davvero difficile da mantenere per lunghi tratti noi possiamo migliorare su tanti aspetti ci proveremo mercoledì però ripeto tanto di di cappello a Civitanova perché non solo ieri ma dall'inizio dell'anno sta dimostrando di essere davvero una squadra concreta con dei fondamentali pazzeschi dal servizio con la relazione muro difesa dove davvero si fa fatica a rimanerli attaccati noi mercoledì ce la metteremo tutta daremo tutto quello che abbiamo soprattutto qui in casa da noi speriamo di fare una bella prestazione e per questa edizione è tutto io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti grazie per essere stati con noi a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi